La spesa per i farmaci in Italia nel 2012, lo dice il rapporto dell'Agenzia del Farmaco. Gli italiani fanno un uso sempre più appropriato dei medicinali e stanno riducendo gli sprechi. La diminuzione della spesa secondo me è un indice importante non solo e non tanto per quella che è la sostenibilità del sistema, ma anche perché vuol dire che sempre più la proprietà viene utilizzata nel momento prescrittivo. I farmaci più diffusi sono quelli per le malattie cardiovascolari. Molto da fare è ancora sul fronte antibiotici, spesso erroneamente usati per curare il raffreddore e che vengono assunti in misura eccessiva dagli italiani, in particolare in Campania, Puglia e Calabria. Alla Sicilia record negativo dei massimi consumi pro capite di farmaci, una classifica che invece vede svettare la provincia di Bolzano per le quantità minime di medicinali dello stivale. Le regioni del centro Italia sono quelle dove influenza e raffreddore vengono curate nel modo peggiore. Vista la crisi economica e il generale senso di scoramento che colpisce larghe fasce della popolazione, non sorprende che il consumo di farmaci antidepressivi continui a crescere. Infine una critica dai diabetologi italiani all'Agenzia del Farmaco. I nostri specialisti hanno sviluppato molte terapie innovative che però per motivi di cassa vengono rimborsate solo in parte, rendendo molto care le cure più avanzate per una malattia che ormai colpisce oltre 3 milioni di persone.